Cari amici, davanti ai nostri occhi la scena evangelica di questa domenica è un sordo muto condotto da Gesù perché faccia qualcosa per lui, perché lo guarisca. Certo impedito di ascoltare, impedito di parlare, ma a quanto pare intanto non impedito in assoluto di comunicare. C'è qualcuno che si prende cura di lui. Evidentemente lui è capace comunque di esprimere un bisogno, un desiderio di entrare in una relazione, ma ancor più viene sottolineato questa attenzione, questa premura, questa cura che questo gruppo di persone hanno verso di lui. È sempre importante ricevere questo stimolo dalle pagine del Vangelo, essere sollecitati a prenderci cura, a farci carico di chi ha qualche impedimento, di chi è prigioniero di qualcosa o di qualcuno che gli impedisce di essere se stesso fino in fondo, di realizzare se stesso fino in fondo nella sua altissima vocazione, di entrare in comunione, in comunicazione, non solo col linguaggio non verbale, ma anche col linguaggio dell'ascolto e col linguaggio della parola. Poter ascoltare anche la musica, l'arte, la bellezza, le parole degli altri e poter comunicare anche con le parole che sgorgano dal cuore. Lo portano a Gesù e Gesù fa con lui dei gesti, lo tocca e poi gli dice delle parole. Anche qui quanta attenzione, quanta premura e quanto desiderio di incontrarlo nel più profondo della sua vita, tant'è vero che lo tira fuori in disparte per parlarsi a quattro occhi, per comunicare a tu per tu, per entrare nel segreto, nei meandri del cuore di quest'uomo. E lo tocca, lo guarisce, gli apre la bocca, e le orecchie. È fatà, apriti, con una parola del suo dialetto. Aprirsi. Aprirsi è l'aspettativa più importante che ciascuno si porta dentro. Anche le persone che si chiudono, che vengono rinchiuse o che si sono rinchiuse per mille motivi al mondo. Quanto è importante anche questo gesto, queste parole, questo comando di Gesù. Apriti e il sordomuto recupera la capacità di ascoltare, la capacità di parlare. Anche noi dovremmo essere condotti da Gesù perché ridia a noi la capacità di un ascolto più profondo di noi stessi, della vita, ma soprattutto degli altri, di coloro che incrociano la nostra strada e talvolta ci trovano sordi. Così come Gesù dovrebbe ridarci la capacità di aprire la bocca per parlare parole di bene, di bontà, di bellezza, di compagnia, di prossimità. Su questo scopriamo che tanti siamo sordomuti, bisognosi di guarigione. Buon cammino, buona guarigione.